buongiorno a tutti oggi faccio con voi una pasta veloce molto buona con fiori di zucca e pancetta ho trovato i fiori di zucca che non sono di stagione al supermercato e quindi mi è venuto voglia di farli in padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva appondante lo facciamo riscaldare un po poi mettiamo la pancetta affumicata a cubetti e la facciamo rosolare per 3-4 minuti passati circa 4 minuti aggiungiamo la cipolla e facciamo cuocere finché la cipolla sarà leggermente dorata passati 5-6 minuti quando la cipolla vi sarà leggermente dorata spegniamo la fiamma e lasciando la fiamma spenta mettiamo i fiori di zucca che ho già pulito come vedete e spezzettato un po così con le mani grossolanamente aggiungiamo un pizzico di sale e sempre lasciando la fiamma spenta diamo una mescolata e lasciamo così visto che l'acqua sta per arrivare a bollore mettiamo il sale ed ora mettiamo la pasta oggi ho scelto le orecchiette di solito la faccio anche con le penne rigate i rigatoni quando la pasta sarà quasi al dente accendo di nuovo la fiamma sotto la padella con il condimento e con la schiumarola trasferisco le orecchiette in padella senza portare molta acqua perché li facciamole sgocciolare bene perché la pasta è quasi cotta quindi non ci serve farla stare tanto la portiamo qui soltanto per farla insaporire un po perfetto una volta trasferita tutta la pasta a fiamma vivace e mescolando spesso la facciamo insaporire e finire di cuocere passati circa due minuti la pasta l'ho appena assaggiata è bella al dente come piace a me adesso spengo la fiamma aggiungo un po di parmigiano e direi che possiamo servire ragazzi è buonissima fatela volendo potete aggiungere anche lo zafferano ma anche così è davvero buona fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto io per il momento vi saluto e vi auguro buon appetito